Buongiorno a tutti, ben ritrovati. L'esercizio addominale che vediamo oggi non è una versione del famoso ballo degli anni 60, ma ha solo lo stesso nome, si chiama twist. Il twist è un esercizio addominale fatto in equilibrio sul bacino, quindi in appoggio sui glutei, che prevede una rotazione a destra e a sinistra. Quello che fa sì che l'esercizio diventi più o meno complicato è appunto il fatto che i piedi siano sollevati, qualora ti desse un po' di fastidio o sia difficoltoso per te, fallo con i piedi in appoggio e eventualmente appunto avere un sovraccarico, come vedrai fatto nel video hard e soft dell'esercizio di oggi. Una sola precisazione, è un esercizio di rotazione della colonna, quindi di movimento destra e sinistra con rotazione. Qualora tu abbia dei fastidi a livello lombare, soprattutto legati a discopatie, protrusioni o ernie. Chi ne soffre sa di che cosa sto parlando, anche se magari tu che non hai sofferenza a livello lombare non capisci la terminologia tecnica, ma non è importante. Quindi chi soffre di queste problematiche eventualmente decida di fare un altro esercizio che non preveda una rotazione del tronco. Chi invece non ha problemi, che provi questo esercizio perché è molto simpatico e decisamente allenante. Ci vediamo domani per l'esercizio cardio. Ciao! Ci vediamo domani per l'esercizio. Grazie per la visione!